Ma quest'anno, il Natale al Parco? Il Natale al Parco si farà, sarà un po' diverso dagli altri anni, ma ci saranno comunque tante storie, giochi e indovinelli. Quando? Dal 7 al 24 di dicembre, tutti i giorni all'ora di Marenda. Dove? Online sui canali social del Parco. E allora partiamo!